Era in compagnia di un amico quando è stato raggiunto dai killer. Alberto Benvenuto Musto, 33enne di professione pizzaiolo, non si aspettava che qualcuno gli scaricasse quasi un intero caricatore addosso. È stato colpito da dieci colpi di pistola. Il giovane di Torra Annunziato ucciso all'altra sera. Il 33enne percorreva via Roma quando è stato raggiunto dai sicari che indossavano un casco integrale. I killer, in sella a una moto, hanno affiancato e bloccato la sua lancia Y e hanno esploso una pioggia di proiettili. Sul posto sono stati rinvenuti e sequestrati dieci bossoli calibro 9 dai carabinieri che al momento non escludono alcuna pista. L'uomo è giunto cadavere poco dopo la mezzanotte all'ospedale di Bosco Trecase. L'omicidio di Torra Annunziata ripropone il tema della lotta alla criminalità. Tanti passi sono stati fatti in questi anni. L'impiego delle forze dell'ordine, la nascita di un comando o gruppo dei carabinieri che ha rafforzato il controllo del territorio. Sono passi importanti cui bisogna dare seguito. La magistratura ha piena e profonda conoscenza di questo territorio, così come gli investigatori delle forze dell'ordine che stanno indagando su questo delitto, che macchia la tranquillità di questa città. Lo ha detto Vincenzo Ascione, candidato a sindaco al comune. Torra Annunziata non abbassa la testa, non ha paura di sfidare chi vuole riportare morte e terrore in questa città, ha aggiunto. E c'è anche Don Tonino Palmese, vicario episcopale per il settore carità e giustizia della diocesi di Napoli, che interviene sulla escalation di omicidi. C'è una ripresa della criminalità organizzata che si permette di agire in maniera abbastanza indisturbata perché considera suo il territorio, ha detto il prete. C'è un atteggiamento di sicurezza rispetto all'impossibilità da parte delle forze dell'ordine di poter controllare il territorio. 8 omicidi in 11 giorni, non arrendiamoci, conclude il prete.